buongiorno agli anonimos nelle prossime settimane un gruppo musicale sovversivo tenterà di tenere concerti in varie città italiane si tratta di un gruppo che attraverso la musica tenta di manipolare le menti degli ascoltatori risvegliando in essi sensi di giustizia equità e tolleranza partecipare a di loro concerti è altamente rischioso e sconsigliato siete pregati di diffondere il più possibile il messaggio e di boicottare tutti i loro concerti evitate anche di trovarvi nelle vicinanze di un loro concerto perché la potenza della loro musica è devastante per facilitarvi in ciò vi ricordiamo quali sono le tappe del loro tour 17 marzo arci svolta rozzano 23 marzo airisci caffè l'aquila 24 marzo contrapunto perugia dialetti e pol 6 aprile bravo caffè bologna 13 aprile ristorante in fiera poggia 14 aprile garage sound bari 18 aprile bobino milano 20 aprile deposito giordani pordenone vialetti e pol 22 aprile amiche dalla theater trezzo fate attenzione e controllate gli aggiornamenti dei loro concerti cercandoli su facebook il loro nome è rosso antico noi siamo gli anonibus noi siamo una legione noi non perdoniamo noi non dimentichiamo aspettateci